Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il metodo Zangirolami. Qui con noi in studio abbiamo il dottore Ivo Lorenzi che lo ringraziamo e lo salutiamo per essere qui. Buonasera e ben ritornato. L'argomento che abbiamo scelto per questa serata è genetica e sovrappeso o meglio sovrappeso e genetica. Poi capirete perché il legame è molto stretto ma soprattutto perché non è vero che si è in sovrappeso a causa della genetica. Ce lo spiegherà molto bene il dottore Lorenzi che sempre con l'utilizzo della lavagnetta lui in maniera molto semplice ci spiega questo stretto legame che c'è. Allora ben ritrovati a tutti e ho fatto questo piccolo schimino per semplificare le cose. Vuol dire per cercare di farvi capire nella maniera più semplice le motivazioni per cui le persone tendono a aumentare di peso. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente c'è una correlazione tra la genetica e il sovrappeso. Gli studi scientifici dicono che l'80% delle persone sovrappeso ereditano dall'albero genealogico come ho scritto qua la problematica del sovrappeso. Quindi cosa fanno queste persone? Tendono più delle volte a fare delle diete. Ok? Adesso lasciamo, accantoniamo questa cosa e così. Mentre il 20% delle persone vanno in sovrappeso per lo stile di vita e per dei fattori ambientali. Lo stile di vita comprende, io comprendo anche le problematiche di salute, quindi tutto quello che c'è in correlazione all'aumento di peso. Perché? Perché la genetica? Perché noi tutti abbiamo questo gene che si chiama gene OB, l'ho anche scritto così tutti quanti possono visualizzarlo, che produce la leptina che è un ormone che è deputato, ha il controllo e regola l'intensità della fame. Vuol dire meno leptina abbiamo, ok, e più siamo indirizzati ad andare a cercare qualcosa. Viceversa, invece, siamo dedicati a non andare a cercare qualcosa. Comunque, il problema è questo, che tendenzialmente le persone in sovrappeso tendono tutte quante a fare delle diete. E la dieta fondamentalmente non è la soluzione, perché io ho trovato un sacco di pazienti che mi dicono Dottore, guardi, io sono sovrappeso, ho provato 6, 7, 8 volte e ho continuato a perdere peso e a riprenderlo. Chiaramente, perché la nostra macchina, il nostro motore, il nostro metabolismo si ricorda fondamentalmente che la nostra genetica è quella del sovrappeso. Quindi, automaticamente, andremo a perdere del peso e poi andremo a riprenderlo. Se invece noi, nella nostra semplicità di cose, cerchiamo di semplificare le cose, cercando di cambiare lo stile di vita, il nostro metabolismo, nell'arco di un paio di anni, si adatta a questa cosa qua. Quindi non c'è più il problema, non ricorre più il problema di riprendere peso. Ok, un'altra cosa che vorrei spiegare anche molto bene, che fondamentalmente il peso va perso in maniera graduale, armonica, tranquillo. Io sento delle persone che dicono, ho perso 7 kg in 7 giorni, ma questo è totalmente sbagliato, perché anche qua, chiaramente, le molecole del grasso si accorgono di questa cosa, che togli, togli qualcosa e poi questo togliere vai a riprenderlo automaticamente anche dopo. Quindi, l'ideale, l'ideale, io l'ho anche scritto così ci capiamo bene, l'ideale sono 3 kg al mese, 600-700 grammi a settimana. Un'altra cosa che vorrei spiegare ai nostri telespedatori è il fatto che al sovrappeso sono legate un sacco di patologie, molto gravi. Allora, la prima è il diabete. Quindi, ricordiamoci che in Italia ci sono circa 25 milioni di persone, statistiche alla mano, che hanno problemi di peso. Ok? 25 milioni di persone, chi più, chi meno. Quindi, queste persone, tutte quante dedicate ad avere anche delle problematiche di salute a lungo andare. La prima è il diabete, ok? La sindrome metabolica, ma la cosa più interessante, ne parlavo prima con Nicole, che una recente ricerca parla di problemi di tumore e al secondo posto la causa dei problemi di tumore è il sovrappeso. La prima è il fumo e la seconda è il sovrappeso. Quindi, io, quello che vorrei spiegare a tutti è di cercare di riguardare un attimo la salute, di cercare di riguardarsi, di cercare di pensare un po' a se stessi. Ok? Siamo d'accordo, il lavoro, la famiglia, ci sta tutto quanto, ci sta tutto, però dobbiamo cercare di ritagliarci un po' di tempo per noi stessi, perché, come io dico sempre, la vita è breve e va vissuta anche intensamente, ma dobbiamo anche salvaguardarla, la salute è questo. Quindi, la cosa principale da fare è cercare di cambiare uno stile di vita. Perché? Perché, come io ripeto, e ho già detto un sacco di volte, e mi colma anche il sentito, noi possiamo mangiare di tutto fondamentalmente. L'uomo è onnivore, quindi può mangiare di tutto e dobbiamo mangiare di tutto. Dobbiamo anche gratificarci, tornerci le nostre soddisfazioni, il dolce, la cioccolata, il salato, questo va persona a persona. Però dobbiamo cercare di mangiare tutto il giorno, ok? Perché durante il giorno, l'ho sempre detto, nessuno di noi aumenta di peso. Non aumentiamo di peso, Nicola. Perché durante il giorno noi bruciamo tutto. Perché durante il giorno noi ci muoviamo, facciamo un sacco di cose, e produciamo un ormone che si chiama insulina, che brucia, brucia tutto. Quindi dalla mattina fino a un certo orario, adesso spiegherò anche questo orario, possiamo assolutamente mangiare di tutto, ok? Con ordine, chiaro che non vado a... però con ordine. Quindi, assolutamente, bisogna fare colazione. Sento delle persone che mi dicono, io non riesco a fare colazione. Non ho fame, non faccio colazione. male, perché il primo sintomo della sindrome metabolica è la mancanza di appetito la mattina. Quindi dobbiamo inserire carboidrati, proteine, i grassi, i dolci. Ci sta la fita di torta, ci sta tutto. Non dobbiamo farci mancare nulla. Però dobbiamo assolutamente fare colazione. Come ho sempre detto, questa macchina deve partire... Noi abbiamo una giornata piena di cose, dobbiamo lavorare, la famiglia, i figli. Quindi la macchina ha bisogno di avere energia. Noi dobbiamo avere energia. Quindi dobbiamo cercare di fare a mezza mattina, di dare benzina a questa macchina, in maniera tale che possa continuare la sua strada. Quindi a metà mattina ci sta uno spuntino. Ci sta anche una gratificazione, un pezzo di cioccolata. Non ho tempo, le noci, le mandorle. Però devo assolutamente inserire qualcosa. Dobbiamo assolutamente mangiare l'ora di pranzo. Le una, le due, le undici, le due e mezza. È lo stesso. Dobbiamo inserire carboidrati, proteine. Non ho tempo, mi mangio anche una pizza. Questo è il problema. E le persone tendono a fare cosa? Non ho tempo, non mangio, mi mangio un'insalata, vado giù al bar, mi prendo... Ma così non funziona. Purtroppo non funziona. Io devo inserire carboidrati, proteine, le verdure. Posso usare di tutto. L'olio d'oliva, l'aceto di mela, le spezie, il sale, il pepe. Devo usare tutto. Deve essere una cosa normale. Devo fare anche pomeriggio una merenda. Tu, Nicola, hai dei figli, ok? Per cui sai benissimo che i bambini ogni tre ore mangiano. E noi, purtroppo, per riportare lo stile di vita, perché se no torniamo alla genetica, dobbiamo cambiare questa cosa. E dobbiamo dare qualcosa anche nel pomeriggio, ok? Il frutto, lo yogurt, il panino, le noci, ci sta tutto quanto. Dobbiamo dare della benzina al nostro corpo, al nostro motore, alla nostra macchina. È chiaro che se io sono portato all'aumento di peso e la mia genetica mi dice che sono portato ad aumentare, in questo momento, prima che tutte le molecole riprendano a funzionare come si devono, devo cercare a un certo orario, che sono circa le ore 16, di tenere l'indice glicemico basso. In questa maniera, ok, tenendo l'indice glicemico, non ho dei picchi di glicemia, di insulina, perché se no automaticamente si alzano gli zuccheri e io ho delle grosse difficoltà a perdere peso. In questo momento cerchiamo di tenere l'indice glicemico basso. Poi la sera dobbiamo anche qua mangiare, assolutamente. Sento moltissimi che dicono io non ceno, non c'ho fame, qualcosa devi mangiare, perché anche qua la macchina va a parcheggiarsi la sera, ok? Quindi la macchina ha bisogno anche lei di avere dell'energia per ripartire il giorno dopo, quindi dobbiamo cercare anche la sera di mangiare qualcosa. Questo è fondamentalmente il funzionamento di quello che è lo stile di vita, ok? Il non mangiare, il saltare i pasti, il fare un sacco di attività motoria, fondamentalmente può portare all'inizio, ti può portare, perché le persone fanno le diete, perdono 10 chili, 12 chili, 13 chili, in un mese, un mese e mezzo, ma poi li riprendono tutti, perché il problema, ripeto, l'80% delle persone in sovrappeso è una questione genetica. è una cosa che è legata al nostro DNA, all'albero genealogico, quindi non possiamo farci niente, però ripeto, dobbiamo cambiare lo stile di vita e quello che noi spieghiamo sempre, quello che tu sempre spieghi, anche il metodo Zangirolami, non è una dieta, è un cambiamento di stile di vita, che tu puoi portare nella tua vita, perché non ti viene mancato niente. Se tu vuoi andare alla sera a mangiarti la pizza, e dico sempre, vacci, l'importante è che tu devi sapere che il giorno dopo devi riprendere, mettere ordine, perché se no torniamo a questo punto qua, ripeto, l'80% è studio, problema di genetica, ok? Però questa cosa qui, chiaro che la genetica non la cambio, la genetica non si cambia, questa è una cosa che è tua, intrinseca e ce l'hai, ok? Chi ha gli occhi azzurri, chi ha gli occhi castanichi, questo non puoi cambiarlo, però, quello che dico sempre, puoi cambiare il tuo stile di vita. Noi, potrei far vedere delle immagini dopo, no? Abbiamo portato alcuni esempi, degli esempi, vediamo se, ecco, questa qua, la Edith Greenfelder, è una signora di 59 anni, di Naturno, ha perso 60 chili, questo è un problema di genetica, nel senso che la signora, ha questo gene, ha fatto 2000 diete, vi ripeto, 2000 diete, era sempre in dieta, e ogni dieta, riprendeva il peso, e aumentava, un chilo, due chili in più ogni volta, quindi si è ritrovata a pesare, 130, qui con il dottor Zangirolami, si è ritrovata a pesare, 134 chili, avete capito? Cioè, questo è il problema, adesso cosa ha fatto lei, col diabete, quindi non ha più diabete, un sacco di problematiche di salute, pressione, non prende più la pillola, e automaticamente, qua ancora era, a meno 40 chili, poi l'altra foto, è venuta lì in studio, l'ho controllata io, questa, era a meno 60, per cui, dobbiamo cercare, e lei dice, io non ho difficoltà, mi mangio anche, che fra virgolette, noi diciamo, in alto agio, è lo strudel, ma come ha fatto a perdere, 60 chili in un anno? Lei, lei era molto, molto inquadrata, nelle cose, ed è scesa, è stato uno dei pochi casi, è perché di solito ci vuole, come dicevo prima, il giusto sono, 3 chili al mese, però questo è stato, perché, automaticamente, togliendo anche i farmaci, ok, il motore, il metabolismo, era, come il filtro dell'aria, quando il filtro dell'aria è pulito, la macchina funziona meglio, lei ha risposto, ma è uno dei pochi casi, lei, poi ce n'è anche un altro, Pircher Christian, che tu hai conosciuto, che funzionano, hanno funzionato molto bene, questo, Christian Pircher, ha perso anche 60 chili, questo è un albergatore, di Montguelfo, quindi, come vedete, ha perso 60 chili, una cosa che tu fai sempre notare, che, queste persone, che perdono tanto peso, non c'è flaccidità, non c'è il muscolo che cade, anche nelle signore, non cade il seno, perché, automaticamente, il dottor Zangiro, ha inventato, anche, un'attività motoria, di breve durata, quindi, un quarto d'ora al massimo, da fare, non di più, e questa attività motoria, specifica, ti aiuta, e fai in maniera tale, da tenere, la massa magra, la massa muscolare, in maniera tale, che tu, il tuo corpo è tonificato, quindi, non c'è flaccidità, anche in viso, questa è la signora di Vella, la Maria ha 74 anni, per cui dico sempre, tutti possono riuscire, i ragazzi, gli adulti, le persone anziane, e la Maria, una pensionata, una maestra, come vedete, ha perso 20 chili, ci è voluto un anno, perché, chiaramente, non è più giovane, però, anche lei ha avuto, dei grossissimi risultati, e si è prestata, a fare queste fotografie, e da uscire anche, sui nostri quotidiani locali, il signor, Marcus, Schnell, questo è un contadino, di Appiano, guardate, 36 chili, diabetico, aneurisma, ne aveva di, una più del diavolo, ne aveva di tutte, questa è una foto, all'inizio, ci ha messo un anno, 36 chili, una fetta dopo, questa è una camicia, che usava, quando era sovrappeso, per cui, tutte queste sono, e tutto questo, è genetica, quindi, sono persone, che hanno fatto, un milione di diete, hanno perso il peso, e l'hanno ripreso, quindi, questo è genetica, ok, tutto genetica, poi possiamo vedere anche, una, questo invece, questa non è genetica, questo è stile di vita, perché vedete, allora, il dottor Pietro Bettanini, un medico, non aveva tanto, più da perdere, però, lui, uno stile di vita, sbagliato, perché? Perché lavorando, sempre in studio, non aveva tempo, di fare colazione, non aveva tempo, di fare il pranzo, lavorava in continuazione, invece, con la giusta alimentazione, quindi, il fatto di, riprendere a mangiare, 5, 6 volte al giorno, e facendo questa, semplice, ma specifica, attività fisica, che insegna, attualizzando i rolami, si è rimesso, completamente in forma, e adesso, ha mantenuto, questo stile di vita, ha acquisito anche, una massa muscolare, che prima non c'era, bravissima, guarda, guarda la differenza, facendo, comunque, pochi minuti al giorno, pochi minuti, sono 15 minuti, nessun tipo di palestra, giusto, perché comunque, non serve andare in palestra, perché anche la palestra, fondamentalmente, se uno vuole andarci, ha del tempo, può andarci, ma la palestra, è anche fondamentalmente, uno stress in più, perché, oggi come oggi, le persone non hanno tempo, tutti non abbiamo tempo, la vita è caotica, i figli, la famiglia, il lavoro, il cane, il gatto, la vita è caotica, quindi, non abbiamo tempo, non abbiamo neanche tempo, per rispondere al telefono, molte volte, lasciamo squillare, no? Può succedere, invece, questo quarto d'ora, di attività motoria, che insegna, Trozan Girolami, ti porta a questi risultati, guardate, il bicipide è scolpito, l'addominale è scolpito, per cui, sembra quasi, qua ci sono otto chili, e non c'è tanto di più, però, questa è la, tra l'altro, questo è un medico, questo è un medico, quindi, questo è un medico, per cui, e lui, cosa faceva lui? Lui, faceva, aveva il tapirulano, è fortunato, il tapirulano da casa, la palestra in casa, ogni, ogni giorno, si, fra virgolette, rovinava, di attività motoria, quindi, era sempre sul tapirulano, quindi era pure uno sportivo, cioè, che ci teneva, questo è un subacqueo, è un istruttore di subacqueo anche, quindi è uno sportivo, bicicletta da corsa, mountain bike, io conosco personalmente, perché siamo andati anche un paio di volte in bicicletta, quindi, quando faceva tanta attività fisica, fisica quotidiana, questo è il risultato, questo è il risultato, ok, questo è il risultato, chiaramente adesso, quando sei così, sono magro, anch'io, anch'io faccio un sacco di attività motoria, vado in bicicletta, però, ormai ho capito il funzionamento, e lui ha capito il funzionamento, cioè, il fatto di andare sul tapirulano, un'ora, un'ora e mezza, tutti i giorni, crea uno stress, e lo stress produce cortisolo, che produce insulina, perché l'attività motoria, anche fare non troppa, produce delle endorfine, stai bene, quindi non vai alla ricerca di qualcosa, e lui invece qui, non mangiava, non mangiava, e faceva un sacco di attività, e questo è il risultato, quindi dobbiamo cercare di mantenere, dico sempre, un minimo di attività motoria, e regolare, e cambiare un po' lo stile di vita, e mangiare, anche uscire con gli amici, uscire per l'aperitivo, nulla è vietato nel nostro metodo, nulla è vietato, però tu hai visto un sacco di, anche la settimana scorsa, non so se c'eri, il mese scorso c'eri tu, c'era una paziente, un architetto di Milano, nulla è vietato, perché dico sempre che, dobbiamo gratificarci, e dobbiamo socializzare, perché ci rimane poco nella vita, se non stare assieme alla famiglia, e socializzare con gli altri, e socializzare vuol dire anche, bersi l'aperitivo, andare fuori a cena, dobbiamo cercare di fare tutto, però dobbiamo avere almeno un po' di ordine, perché io dico, anche se non segui il metodo San Girolami al 100%, hai lo stesso risultato, e quello che noi insegniamo, se lo segui in maniera precisa, fai come questa signora, hai questi signori qua, 60 kg, 60 kg, ma ne abbiamo parlato della signora Briegel, meno 35 kg, poi c'è la signora Briegel, anche la, che ha perso meno 35 kg, ecco questa signora qua, anche a lei ha 60 anni, guardate anche la differenza del viso, del collo, non c'è, non ci sono smagliature, non c'è niente, anche il seno, addirittura sembra quasi, perdonatemi, ma è l'occhio maschile, qua è cadente, è quasi non è cadente, cioè sembra, giusto? Guarda le gambe, guarda, si perde il peso in maniera armoniosa, armoniosa, in maniera armonica, brava, dimagrisci nel viso, rimani a pera, esatto, dove serve, brava, questa è una grossa imprenditrice dell'Alto Adige, perché c'è una cantina vinicola grossissima, questo è il risultato, le è cambiato completamente, la vita, ok? E lei deve assaggiare il vino, perché lo vende il vino, per cui, e questo è il fatto di dire, ok, io il vino lo assaggio, ma non è che mi bevo tutti i giorni un litro di vino, o sei bicchieri di vino, faccio l'assaggio, io so poi cosa fare, quello che noi insegniamo, Nicole, è far capire cosa fare, se io vado a sbagliare, se io sbaglio, se io vado in ferie, sto in ferie con gli amici, non è il digiuno, non è il digiuno, non è la dieta ipocalorica, brava, quindi, brava, non è quello, cioè sgarro, allora il giorno dopo non mangio per 24 ore, no, non salto neanche un passo, bravissima, noi insegniamo, nei nostri percorsi, nei nostri centri, insegniamo alle persone, che, ok, vado in ferie, faccio quello che voglio, genetica, quindi sono portato ad aumentare di peso, a tornare come prima, io ti spiego poi, ti do in mano qualcosa, in maniera tale da ritornare come prima, senza, come dicevi tu, fare diete, digiuni, non digiuni, ci sono. Mi puoi spiegare molto velocemente, dottore, perché le persone, tutte quelle che noi abbiamo intervistato, le varie testimonianze, nessuna di queste ha mai patito la fame, e soprattutto la maggior parte, hanno raccontato che mangiano di più rispetto a prima, cioè che cosa succede, perché non hanno più questi picchi di attacco al frigorifero, la dispensa, e mangiano di più, e riescono a dimagrire. Qua è il problema, andiamo a stimolare la leptina, come, ok, queste persone mangiavano in maniera errata, ok, andavano alla ricerca di qualcosa, nel momento della giornata sbagliato, quindi queste persone cosa facevano, non facevano colazione, a mezzogiorno si mangiavano l'insalata, dice sto a dieta, mangio l'insalata col tonno, ok, torno a casa la sera, mi rilasso, automaticamente rilassandomi produco degli ormoni, si alza l'insulina, e cosa succede, che il 99% delle persone in sovrappeso, mangia o si abbuffa, quando rientra in casa, questo è il problema, ok, quello che noi facciamo, ripeto, è cercare di far capire alle persone che bisogna mangiare, perché se il motore capisce che arriva a benzina, continuerà a funzionare, se il motore capisce, sottolineo che non c'è benzina, rallenta, è automatica per risparmiare, quindi più mangi, e più dimagrisci, sembra un paradosso, ma purtroppo è così, meno attività fisica fai, fai quella specifica, più dimagrisci, ripeto, sembra un paradosso, ma è così, e questa è la testimonianza, tu l'hai vissuta da anni, perché da anni le hai vissute queste cose, sembra quasi veramente incredibile, perché poi tutti hanno magari anche delle difficoltà motorie, fisiche, perché comunque il sovrappreso, l'obesità ti portano ad avere delle grossi difficoltà, e tutte riescono comunque, lo hanno raccontato, a fare questo piano motorio, che magari si parte con tre addominali in tutto, per poi mano a mano aumentare in base alla risposta del fisico di ogni persona, quindi non esistono tabelle, non esistono esercizi, come si dice, base per tutti, cioè si studia il percorso proprio per ogni paziente, perché lo ricordiamo, questo è un percorso medico, anche perché l'obesità e il sovrappeso portano in sé tanti tipi di patologie, l'abbiamo detto, dal diabete alla sindrome metabolica, per poi patologie autoimmuni, disbiosi intestinali, problemi della pressione, quindi veramente ci sono certe persone che arrivano con un plico di farmaci, esattamente, a prendere, quindi non è neanche semplice gestire, un quadro che magari è patologico ed è complesso, addirittura ci sono pazienti da voi che sono finiti anche in ospedale, in ospedale, certo, sono pazienti che anche per la questione del diabete sono finiti all'ospedale e non hanno risolto il problema, ci sono rivolti a noi perché hanno sentito che si può risolvere, anche il problema del diabete si può risolvere, chiaramente il diabete di tipo 1 è molto più difficile, ma il diabete di tipo 2 si può risolvere, si deve risolvere, ma chiaramente non si risolve con il farmaco, perdonatemi, no, è troppo semplice, è troppo facile, è troppo facile, io mi permetto, lo dico, poi chiaramente mi diranno tutti i colori, è troppo facile prescrivere l'insulina, la metformina, prescrivere dei farmaci, e prenditi il tempo, e mangia quello che vuoi, prendi il tempo e mangia quello che vuoi, prendi il tempo e studia la persona, studia le caratteristiche della persona, perché siamo tutti diversi, noi guardiamo, le persone partono da una base, però noi cambiamo, siamo tutti diversi, quindi dobbiamo cercare di capire la caratteristica, di capire quale carboidrato inserire, anche per le problematiche di diabete, e noi alla fine 9 persone su 10 hanno risolto il problema del diabete, Christian Pircher era diabetico, non è più diabetico, eccolo qua, non è più diabetico, il suo medico di base, ma non è che non è più diabetico da 3 mesi, cioè questo mantenimento dura pure negli anni, se si mantiene questo stile di vita, sono 8 anni che ha seguito il nostro percorso, ed è un albergatore, attenzione, per cui la sera si trova con i suoi clienti, e beve anche il bicchiere di vino, però ha risolto, ha risolto, ed era sportivo, agonista, attenzione, attenzione che era sportivo, lui è arrivato da noi perché il suo medico di base, gli ha detto, caro Christian, così, o tu cambi o muori, questa cosa l'ha spaventato, ed è dimagrito, è quello che dico anch'io, cerchiamo anche alle persone che ci stanno ascoltando, di non arrivare troppo in là, troppo tardi, cerchiamo di non arrivare all'ultimo momento, e dire, oddio il medico mi ha detto che devo fare subito qualcosa, perché così non funziona, prendiamoci cura un attimo prima di arrivare a questo punto qua, cerchiamo di cambiare, ripeto, 25 milioni di italiani hanno problemi di sovrappeso. Quindi facciamo scendere questa statistica, perché se siamo intorno ai 60 milioni, vuol dire che uno su tre, o anche uno e mezzo su tre, è in sovrappeso, insomma, la percentuale è molto elevata. Dottore Lorenzi, io la ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio anche i nostri telespettatori, perché ci ha portato comunque dei preziosi consigli, li ha condivisi con noi. Vi ricordo che se volete rivedere la puntata, potete farla sul nostro sito internet, dove trovate poi anche tutti i riferimenti, dei centri Zangirolami. Io la ringrazio, ringrazio anche voi. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao. 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 Grazie a tutti.